In questi momenti di tanta sofferenza, non stancatevi di dire perché, come i bambini, e così attirerete gli occhi del nostro padre sul vostro popolo, attirerete la tenerezza del papà del cielo su di voi. È il 21 novembre 2013, Papa Francesco incontra la comunità filippina di Roma pochi giorni dopo la devastazione del tifone Iolanda, che nell'arcipelago asiatico ha provocato più di 7.000 vittime colpendo 16 milioni di persone. Abbraccia commosso il commosso Cardinal Tagle, arcivescovo di Manila, e accompagna con la preghiera il dolore di un popolo. Quel giorno prende forma il progetto di visitare le Filippine, vent'anni dopo San Giovanni Paolo II, e incontrare superstiti e familiari delle vittime, come ci spiega il Cardinal Tagle. Il tema della visita è misericordia e compassione. Andando a trovare le vittime, il Santo Padre vuole rassicurarle che non sono dimenticate, che preghiamo insieme. Anche la preghiera del perché è quella dei bambini, che chiedono perché al Padre, non tanto per avere risposte, quanto per sottolineare la nostra vicinanza, il nostro legame con il Padre. Non vediamo l'ora che il Santo Padre si rechi a Tacloban e Paolo, ma vorrei anche ricordare il suo incontro con le famiglie e con i giovani. Anche questo è un segno di misericordia e compassione perché non sono infatti solo i tifoni, i terremoti, non sono solo queste calamità o simili eventi che colpiscono e distruggono la vita, quanto i problemi quotidiani, della povertà, dell'ingiustizia, della corruzione. Ecco i tifoni quotidiani. Papa Francesco incontrerà i giovani filippini a Manila, nel campo sportivo dell'Università Santo Thomas, come vent'anni fa a Giovanni Paolo II, la mattina del 18 gennaio, ma prima, il pomeriggio del 16, le famiglie nel Mall Ovasia Arena. Concentriamoci su una priorità, la famiglia. Abbiamo capito che alcuni dei problemi che esistono nella società e nella politica, alcune delle questioni riguardanti le strutture sociali, ovvero i cosiddetti mali sociali, sono in parte collegati alla famiglia. Prendiamo i casi di corruzione in politica. Molti di essi sono perpetrati da famiglie, che lo fanno per il clan, con i loro membri che si adoperano per realizzare qualcosa di sbagliato. Dobbiamo evangelizzare la famiglia per consentirle di portare avanti la sua missione nell'ambito dello sviluppo della società in generale. Sempre il 18 gennaio, prima della messa conclusiva del pellegrinaggio nel Rizal Park di Manila, che ospitò la veglia e la messa finale della GMG del 1995, il Papa incontrerà i leader religiosi delle Filippine, ancora nell'Università Santo Thomas. Riguardo al dialogo interreligioso, lei sa che rispetto al resto dell'Asia, nelle Filippine il numero dei cattolici è il più alto in assoluto, ma abbiamo una missione nel continente, quella del dialogo interreligioso. La maggior parte delle principali religioni del mondo sono nate in Asia, pertanto i cristiani, anche se sono un piccolo gregge, una esigua minoranza, devono imparare a vivere e condividere Gesù con altre religioni.